Beh, innanzitutto io ringrazio l'invito dagli amici di Alessandria perché per noi è veramente un grande onore poter dare questa visibilità anche a questa bici della nostra collezione. La nostra collezione, quando parlo di nostra, parlo di un centinaio di biciclette che papà Giannetto, allora ammazzatore della nazionale italiana, ma soprattutto amico intimo di tanti campioni, tra i quali il campionissimo, ha avuto da Eddie Mers questo omaggio che fa parte della nostra collezione e che da oggi spero proprio possa far sia l'inizio di una collaborazione tra questo museo e quello del Ghisallo, che apprezzo tantissimo perché sono oggi per la prima volta e veramente faccio complimenti a chi ha avuto innanzitutto l'idea e soprattutto come è stata impostata questo progetto, in effetti che il ciclismo ha soprattutto la storia del ciclismo. Questa bici quando fu utilizzata? E poi diciamo pure che è una delle sue bici che naturalmente hanno avuto una carriera, non è stata usata in particolare per un campionato del mondo o per un'amministrazione particolare, è una delle sue bici che però gentilmente ha omaggiato in termini proprio di amicizia.